buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial oggi andremo a vedere come creare una cassetta presso piegata con del mevaco product designer vogliamo ricreare questo disegno che è stato fatto da un tecnico una cassettina come vedete da 1010 x 512 mm con 4 pieghe da 20 mm che vediamo qua in sezione inoltre abbiamo anche dei fori di fissaggio ma questi andremo a vederli poi nella seconda parte di questo tutorial come prima cosa avviamo il nostro mevaco product designer dopo aver effettuato il login lo troviamo sotto strumenti mevaco product designer adesso andiamo a selezionare la tipologia del foro era un foro tondo rt a cui inconce dal diametro 8 interasse 12 campo di foratura completo materiale era alluminio spessore da 2 e poi c'era anche un trattamento superficiale c'era una verniciatura a polveri che devo selezionare qui con un ral rosso 3000 3000 senza fondo protettivo perché non serve sull'alluminio e grado di brillantezza era opaco andiamo a cliccare su aggiungi posizione applichiamo i parametri e qua troviamo i nostri template cassette andiamo a selezionare il modello piegatura singola a cassetta questo come vedete anche da anteprima qui adesso abbiamo lo schema qua vediamo che possiamo andare a definire altezza lunghezza e la misura di piega la piega era da 20 mm la piega minima e 11 che possiamo andare inserire con la massima e 50 quindi 20 va benissimo l'altezza da 512 per una lunghezza di 1050 qui invece le misure massime minime sono 1405 per la larghezza e 2009 80 per la lunghezza questo perché andiamo a utilizzare una lamiera non un coil e questa lamiera che può avere un formato massimo di un metro e mezzo per tre ha comunque delle pinze che vanno a fissarla sulla macchina per questo lo spazio utile di lavorazione è 1405 di larghezza e 2009 80 di lunghezza qua possiamo andare a selezionare dove vogliamo che entri il punzone se da sopra dall'alto verso il basso oppure dal basso verso l'alto lasciamo questa opzione e possiamo anche andare a decidere singolarmente le varie pieghe possiamo piegarla sui quattro lati oppure soltanto a destra sinistra sopra o sotto possiamo andare a selezionare quello che vogliamo noi lasciamo tutte quattro le pieghe attive e clicchiamo su crea ora abbiamo la nostra cassettina questa però è la vista bidimensionale quindi la misura viene calcolata in automatico dal nostro designer vedete appunto i 5 12 finiti in realtà a livello di lamiera sono 5 45,6 e 1050 piegati diventano 1083,6 questi valori vengono calcolati in automatico dal designer in base al materiale e allo spessore per questo non si possono più cambiare questi valori cioè non posso più andare adesso a cambiare del materiale nello spessore altrimenti questi valori qua non sarebbero più corretti e la configurazione sarebbe sbagliata quindi bisognerebbe rifarla da capo adesso andiamo a vederla nell'anteprima l'anteprima mostra una visuale 3d quindi andiamo a vedere proprio la cassettina questo si nota meglio girando la vista qua possiamo girare la vista vediamo che ci sono le quattro pieghe da 20 con le misure inserite adesso vogliamo andare a inserire la nostra il nostro campo forato andiamo a selezionare impostazioni qua abbiamo già un valore da 10 che sarebbe il bordo perimetrale che anche il bordo perimetrale minimo per le cassette cioè meno di 10 non si può inserire il bordo desiderato era da 12 quindi metto 12 attivo lo strumento bisogna attivare lo strumento per applicare i fori e con questo strumento attivo vado a cliccare qua all'interno in questa area per mettere i fori ora vedete che nell'anteprima si vedono le nostre lamiere con il campo forato con le quattro pieghe e abbiamo ottenuto il risultato desiderato nella seconda parte di questo tutorial andremo a vedere come posizionare i fori di fissaggio grazie per la vostra attenzione